Anziano raggirato e derubato del portafoglio con soldi e documenti è accaduto a fratte di Santa Giustina in Colle, vittima un 83enne che vive da solo. Davanti alla sua abitazione scende da un'auto una donna che trova la porta d'ingresso aperta ed entra in casa, frugando nei cassetti e parlando fino a confondere l'uomo. Intanto un complice intontisce l'anziano, pare facendogli annusare una sostanza. Trovato il portafoglio i due fuggono, indagini dei carabinieri.